Quinta edizione per la festa Maddalena in piazza volta a coinvolgere sommesi e non soltanto. La festa è in programma il 7 settembre ma è necessario iscriversi entro il 3 per poter gustare un delizioso aperitivo ma anche una succulenta cena. A seguire musica, magia e spettacolo. Una serata gustosissima con un'ottima cena a base di antipasti, paella, dolce e sangria. Ci sarà una serata magica con ottimi intrattenitori e vi aspettiamo tutti perché è una serata da non perdere. Ringraziamo il Comune di Somma per il patrocinio e la collaborazione Agriturismo la Viscontina, Associazione Anfas di Maddalena e l'oratorio della parrocchia di Maddalena. Ringraziamo tutti e vi aspettiamo numerosi. Maddalena Forever è da 5 anni impegnata a Somma per diffondere storie e tradizioni e per valorizzare le bellezze del territorio. Maddalena Forever è nata 5 anni fa con la collaborazione di molti cittadini della frazione di Maddalena che si stanno adoperando per promuovere le bellezze del nostro territorio. Organizziamo eventi come quello del 7 settembre o eventi di tipo natural turistico come il prossimo appuntamento di marzo di Maddacioc, un percorso che si sviluppa sulle rive del Ticino. Noi cerchiamo di valorizzare il nostro territorio perché lo riteniamo un territorio ricco di natura e nello stesso tempo di storia perché abbiamo attraversato periodi importanti dove ci sono ancora segni tangibili di quello che è stato fatto per la navigazione delle acque che erano una risorsa importantissima per il nostro territorio. Grande festa anche a Quarezza come sempre a settembre. L'appuntamento è per il 6, il 7 e l'8. A farla da padrona polpette, panzerotti e l'immancabile stufato d'asino e poi tante attività pensate per cittadini sommesi e non soltanto. L'obiettivo spiega Ileana De Galeazzi, anima della proloco cuarezzese, è quello di far riscoprire a un pubblico ampio le bellezze e la storia del territorio. Questa tre giorni vede due aspetti particolari, un aspetto gastronomico e un aspetto musicale che viene proposto per tutte e tre i giorni. Voglio segnalare in particolare queste polpette che sono una novità per noi, le polpette di coarezza che le abbiamo un po' riesumate dagli antichi ricettari, cose, piatti poveri, piatti molto godibili e i panzerotti. Un'altra cosa che voglio segnalare è lo stufato d'asino con la polenta di domenica a mezzogiorno che di solito riscuote qualche successo. A proposito di domenica aggiungo che alla mattina alle nove e mezza ci sarà una visita guidata che vuol far conoscere le edicole che sono disseminate sul territorio del nostro paese. È un aspetto artistico piuttosto importante, è una cosiddetta arte povera che però ormai è stata un po' riabilitata e viene considerata invece, oserei dire, alla pari dell'arte più rinomata e più accreditata. Nel pomeriggio ci sarà una piccola festa per i bambini. I bambini piccoli sono attesi dal coniglio bianco di Alice, quelli più grandi dalla lettura del libro di Carol Alice nel Paese delle Meraviglie e è possibile un piccolo laboratorio per i bambini più piccolini. Con questa festa noi vogliamo oppurre l'attenzione sulla vita di coarezza che purtroppo è un po' così, un po' carente, nel senso che c'è poca animazione e c'è poca partecipazione. Vogliamo con questa festa lanciare un appello appunto per la partecipazione di tutti, per far rivivere questo piccolo paese che presenta degli aspetti interessanti sia per l'architettura, sia per il paesaggio e anche, oserei dire, per l'aspetto artistico delle sue edicole, delle sue chiese, perché di chiese ne abbiamo due, una parrocchiale e un'altra un vecchio lazzaretto e quindi pensiamo e speriamo che queste proposte possano essere interessanti per i coarezzesi e non. A rendere ancora più bella la festa due mostre e laboratori artistici. Intendiamo presentare due mostre, una mostra di fotografia che documenterà gli aspetti del nostro territorio, per cui il fiume, i boschi e invece una collettiva di pittura dove saranno presenti i pittori sia di coarezza che gli amici, alcuni amici pittori di Sesto. Questa mostra, diciamo, è a tema libero per cui ogni artista presenterà le opere che meglio crede, che preferisce. Però, diciamo, c'è un'altra piccola iniziativa che è interessante sottolineare. Domenica pomeriggio, che è praticamente il giorno di chiusura della festa, gli artisti saranno a disposizione del pubblico per fare dei ritratti dal vivo, naturalmente. Un po' come succede a Parigi, sulla piazza di Montmartre, dove gli artisti sono tutti presenti a fare dei ritratti, solo che noi li faremo tutti gratuitamente. Noi penso che questa sia una bella notizia. L'inaugurazione della mostra di pittura e della mostra di fotografia avverrà invece la domenica precedente, cioè la domenica primo settembre alle ore 12 con un aperitivo. Grazie a tutti.